Siamo a Cortina d'Ampezzo, ospite del CAI di Pieve di Cadore e andiamo alla cima Formenton del gruppo delle Tofane. Partenza nei pressi del ristorante Pietofana con il sentiero CAI numero 407. Facciamo prima la forcella Ravalles, poi puntiamo alla cima del Formenton. Punto di partenza Ristorante Pietofana metri 1675 sul livello del mare, cima Formenton metri 2830 sul livello del mare per un dislivello di metri 1155 circa. Buona visione e alla prossima! Grazie a tutti! 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 ! Grazie a tutti! ! Grazie a tutti! ! 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